La cosa che mi esalta maggiormente di questa prima prova di coquet è farlo in questo posto, un po' cotto, un po' travi di legno. Siamo un po' in Maremma, un po' nel Sud Pacifico, un po' Medioevo, un po' Maori. Partiamo. Come cominciamo? Pre-shave, assolutamente pre-shave. Un extra busi, l'ho voluto molto carico di olio di semi di canapa e zafferano, grande scorrevolezza. Una profumazione che entra dentro, lemongrass, toni verdi, ci siamo. Armiamo il rasoio, ho preso il più esposto, il più open comb, a farsi male se non si hanno grandi prodotti. Coquet, il sapone, andiamo a sentire che cos'è. 80 grammi pieni, densissimi di olio di semi di canapa e zafferano, con al suo interno la fragranza che ho studiato per questa referenza. Fatta sui toni dell'amarissimo rabarbaro, fatto sui toni del frizzantissimo e balsamicissimo lemongrass. Monta subito. Questa è la cosa fantastica. L'acqua incontra l'olio di semi di canapa e schiuma. Appena l'ho capito, ho detto no, questo deve essere assolutamente messo dentro un sapone da barba. Grandissima schiuma, pannosa, zero aria. Riesce a sequestrare acqua e a non inglobare aria. Scorre, che è una meraviglia, anche grazie all'olio pre-shave assolutamente. Protegge, movimenti lineari, orizzontali, obliqui. La pelle perfetta, gommosa, stupenda. Andiamo a prendere l'aftershave. L'aftershave, basso alcol. Ho voluto mettere perché già è lo zafferano e l'olio di ricino ci siamo forti. Sentiamo questo bello odore. Ci mettiamo subito addosso e sentiamo una parte oleosa che lo zafferano lavora. L'ho messo anche un po' in testa perché le note di testa, appunto, che sono le più volatili, possano lasciare la scia. Ci rivestiamo subito e qui è il momento. Pacific, bergamotti, rabarbari, lemongrass, sotto i legni di guaiaco, la dolcezza della vaniglia di Tahiti. Forte da mettere ovunque. E ora siamo pronti per andarsene. E ora siamo pronti per andarsene.